Ben trovati ai telespettatori di Cilento Channel nel nostro salotto televisivo. Abbiamo il piacere di ospitare l'Associazione Spirito Francescano di Agropoli, il presidente Germano Rizzo, il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, il professore Capano, associato dell'Associazione Spirito Francescano, il consigliere comunale Francesco Crispino, nonché presidente della Commissione Cultura della città di Agropoli e Domenico Iacomino, sempre dell'Associazione Spirito Francescano di Agropoli. Siamo qui per parlare di un'iniziativa molto interessante che si terrà l'8 dicembre. Iniziamo subito con Germano Rizzo che ci spiega questa interessante iniziativa che poi è una installazione che abbiamo qui in miniatura. Qui c'è un prospetto di quello che poi sarà realizzato l'8 dicembre nei pressi della chiesa di San Francesco ad Agropoli. Allora Germano, spieghiamo ai telespettatori come nasce l'idea e in che cosa consiste. Buonasera innanzitutto e ringraziamo Cilento Channel che ci ha accolto nei suoi studi e che ci accompagna sempre nelle nostre iniziative. Questa iniziativa è un'altra iniziativa che si aggiunge al comitato delle celebrazioni degli 800 anni dalla presenza di San Francesco da Agropoli e dall'incontro con San Daniele Fasanella. Questa iniziativa è stata concepita per ricordare il presepe di San Francesco a Greccio nella notte di Natale del 1223. Quindi è un riferimento storico che noi ripercorriamo con questa iniziativa. È una struttura luminosa in cui saranno collocati alcune figure. Ecco, inquadrato adesso dalla telecamera, vediamo la figura di San Francesco, il bue e l'asinello, la mangiatoia. La mangiatoia che lì è rappresentata col bambino, ma nella realtà di Greccio il bambino non c'era. perché San Francesco, poi si è parlato che San Francesco ha inventato il presepe, sicuramente è stato l'uniziatore, ma non aveva intenzione di fare un presepe. Aveva intenzione di rappresentare il mistero della nascita di Gesù Cristo in quel modo suggestivo. E aveva chiesto al Papa Onorio III di poter rappresentare a Greccio quella rappresentazione che poi in effetti fici. Questa è una struttura realizzata in carpentieria di acciaio con un vetro plexigas, come vedete nell'immagine, e sarà illuminata dalla ditta Artelux. Mi piace ricordarlo, forse non è molto conosciuto sotto molti aspetti Artelux, ma per me è il mago della luce e ci accompagnerà in questa realizzazione. Questa iniziativa sarà accompagnata da alcune esibizioni che noi opportunamente siamo collegati con Officina 72 di Alfonso Di Biase e lui ci ha garantito che ci saranno delle esibizioni, almeno due nel periodo natalizio. Di questo chiaramente lo ringraziamo. Germano, questa è un'installazione di tre metri, perdonami se interrompo il tuo discorso, un'installazione di tre metri luminosa, quindi illuminata con dei led, come dicevi Pocanzi, e sarà collocata nel piazzale antistante la chiesa? No, come si vede nell'immagine che sta alle nostre spalle, è posizionata nel promontore che domina la Baia di San Francisco. Gentilmente il proprietario della zona, l'ingegnere della Pepa, l'ha messa a disposizione, perché ha molto apprezzato questa iniziativa e ha detto fate del terreno quello che credete opportuno. Quindi anche in questa sede noi lo ringraziamo per la sua grande disponibilità. Bene, Sindaco, un'installazione che si colloca soprattutto nel periodo natalizio, sappiamo che è in fermento il calendario per quanto riguarda le attività che si svolgeranno nel periodo di Natale nella città di Agropoli e questa è una di quelle attrazioni che potrebbe richiamare anche tanti turisti del Cilento e non solo per visitarla. Buonasera innanzitutto a tutti coloro che ci seguono da casa. Voglio prima di tutto ringraziare l'Associazione Spirito Francescano. È da un po' di anni che collaborano con l'amministrazione comune di Agropoli e hanno già messo in cantiere tantissime iniziative e tutte quale di successo. Quindi mi faceva piacere pubblicamente ringraziarli e fargli complimenti per l'attività che hanno svolto in questo periodo. Un'attività senza sosta, piena di idee e piene iniziative. Questa è l'ultima di cui parliamo oggi. È ancora un'altra idea, un'altra iniziativa che va nella direzione sia del continuo percorso di rendere sempre più nota la storia e il passaggio di San Francesco ad Agropoli. Quindi è una loro volontà di proseguire questo percorso e noi a fianco a loro naturalmente in questa direzione. E questa iniziativa che va ad essere realizzata proprio nel periodo dell'analizio rende anche e ci aiuta anche a raccontare della nostra città. Noi stiamo cercando di prepararla per il Natale nella maniera più attrattiva possibile con diverse iniziative che poi vi presenteremo. Mi farà piacere magari venirvi a trovare nuovamente qui il studio per potervele presentare. Questa si colloca tra le nostre iniziative ed è un'iniziativa di spicco perché riesce a mettere insieme diverse cose. L'aspetto certamente storico-culturale, l'aspetto religioso e perché no anche l'aspetto strettamente turistico e di conoscenza della nostra città attraverso quello e i meccanismi virtuosi che certamente questa iniziativa genererà. Quindi siamo felici di poterli accompagnare. Un'idea, ripeto, molto particolare che devo dire a riscosso, appena ne ho avuto notizia, l'hanno presentata in comune, subito la mia disponibilità perché la trovo un'iniziativa nuova è particolarmente piena di significato. Quindi vi ringrazio, continuate a lavorare così, mi raccomando, non vi fermate perché proprio dalla sinergia delle forze attive del nostro territorio noi dobbiamo prendere il meglio e loro fanno tante cose e quindi ci aiutano a diventare più bravi, ci aiutano a fare in modo che la nostra città si possa presentare sempre al meglio in ogni occasione. Grazie Sindaco. Consigliere Crispino, lei da sempre vicino, non solo componente dell'Associazione, ma da sempre vicino alle iniziative dell'Associazione Spirito Francescano. Ricordiamo che in occasione delle celebrazioni degli 800 anni della presenza di Frate Francesco ad Agropoli e dell'incontro con San Daniele a Fasanella, ad agosto c'è stata la possibilità di visitare la mostra del quadro miracolo di San Francesco ad Agropoli presso le sale del castello e ovviamente di conseguenza c'era anche la manifestazione del settembre culturale che ha dato lustro a questa esposizione. Ma lei, come dicevo poc'anzi, è sempre vicino alle iniziative dal punto di vista culturale, quindi sostiene ovviamente tutto ciò che l'Associazione realizza. Buonasera, io mi onoro di rappresentare il Comune di Agropoli su delega del Sindaco all'interno del comitato che si è costituito, di cui fa parte anche l'Associazione e tanti altri amici. Come diceva giustamente il Sindaco, la sinergia tra tanti fa sì che si possano ottenere dei risultati importanti. Ricordavi giustamente tu la mostra interessantissima che si è tenuta al castello di Agropoli dal metà del mese di agosto fino a fine settembre, coinvolgendo per l'appunto nel suo ambito la dodicesima edizione del settembre culturale su San Francesco che già il comitato si è fortemente proiettato sull'impulso straordinario che dà l'amico Germano a tutti noi su questa nuova iniziativa. Io mi sono sentito anche di suggerire qualcosa al comitato compatibilmente alle esigenze del proprietario del terreno, compatibilmente alle esigenze tecniche e di autorizzazioni che questa installazione possa permanere sempre in quel sito. Stiamo lavorando su questo come stiamo lavorando come comitato anche su altre attività che ci riserviamo poi successivamente nei prossimi mesi del proseguo di svelare proprio agli amici di Cilento Channel consapevoli di quello che ha rimarcato prima il sindaco, la storia della nostra città, la presenza, quella che era considerata una tradizione che sempre più si va affermando come una realtà della presenza di San Francesco d'Assisi, rappresenta una delle pagine, se non la pagina più esaltante della nostra città e noi ci teniamo tantissimo a che questa possa essere sempre letta quotidianamente questa pagina. Infatti noi ci auguriamo che questa installazione possa rimanere non solo nel periodo natalizio ma per sempre in quel posto così che ci possa essere anche un turismo e possa venire qui nella nostra città a scoprire non solo la cultura, la bellizia ma anche la storia. A proposito di storia mi piacerebbe ascoltare dal professore Capano, componente dell'associazione ma anche storico della nostra città. Ecco alcuni cegni storici che appartengono a questa installazione in sé. Germano anticipava che la sfera non avrà all'interno della mangiatoia il bambino. Perché? Diciamo che la sfera, ci ho pensato tra l'altro, perché spesso vengono fuori dei progetti che poi vengono sviluppati coscientemente. Però nell'io già ci sono delle risposte oppure delle domande che noi ci facciamo. Si può dire letteralmente che questa sfera ingloba. una scena che è la più rappresentativa tra le espressioni della civiltà occidentale quanto al cristianesimo. Esprime ecco il porsi di Francesco nei confronti del mondo con il suo senso dell'evangelizzazione. Lui è il maggior rappresentante di Cristo appunto sulla terra. Ed è importante anche dal punto di vista politico, per i suoi tempi, perché ormai i papi, a partito dell'innocenza, con onorio, avevano accettato questa sua concezione rivoluzionaria di partire dalla povertà. Quando invece la società era strutturata secondo categorie che partivano dall'alto. Quindi la rappresentavano in modo diverso. Quindi San Francesco ecco non solo esprime appunto il senso di una povertà necessaria, ma la nascita appunto del Cristo nella povertà. Ma il Cristo non è appunto quello che noi vogliamo direttamente, quasi concretamente materialmente vedere nella mangiatoia, ma lo abbiamo dentro di noi. È un processo importante. Per cui ecco la presenza di Francesco si pone doppiamente. Si pone nel senso della povertà e si pone il senso ecco del mondo ecclesiastico, del rapporto tra l'ordine francescano per la prima volta in un senso veramente ufficiale, è la Chiesa. Lui che aveva sempre appunto proposto per questo, aveva assicurato nei suoi confronti la collaborazione, l'autorizzazione del Papa anche nei riguardi appunto di questa nuova espressione appunto di una scenografia appunto che da prima non era ben chiara. Ovviamente se nella sfera provvisoriamente abbiamo San Francesco con degli uccelli, che richiama la predica agli uccelli, certamente una definitiva edizione porrà San Francesco giustamente, così come ci viene tramandato dai suoi biografi, come sacerdote. sacerdote perché fa un passo in avanti, così come aveva detto i suoi discepoli nell'ambito di un'alleanza con la Chiesa. Lui è il sacerdote, è colui che celebra la messa e quindi assume diciamo la presenza del bambino nato nella povertà come emblema per tutto il mondo. Il discorso appunto della stella che ha voluto aggiungere Germano, che non fa parte assolutamente della prima edizione, nello stesso tempo, ecco, rappresenta un connubio con una scienza antica, caldaica, dei magi, il rapporto alle costellazioni nell'ambito di previsioni rispetto alla nascita di un re del mondo, in questo caso appunto del Cristo. Per noi assume un valore simbolico perché parte diciamo dal 2019 a questo punto fino al 23, un anno cruciale anche per San Francesco che era affetto da una grave malattia agli occhi, che si può dire vedesse più spiritualmente che materialmente le cose. Infatti dovrà ricoverarsi, sarà visitato da un illustre clinico. Avete pensato di, se ci sarà la possibilità insomma di poter spiegare anche a coloro che faranno visita a questa installazione la storia, ecco il perché, sicuramente qualcuno si chiederà perché non c'è il bambino all'interno della mangiatoia, non conoscendo, ecco, la storia, perfetto, quindi ci sarà... Per cui, ecco, con il 23 si può dire che si conclude questo nostro ciclo di manifestazioni che includono sia appunto la presenza di Sant'Aniele Fasanella ad Agropoli, secondo una tradizione di cui non si parlava localmente, che è soprattutto calabrese verificata comunque, sia il 1222, che è lunedì in albis in cui San Francesco predica i pesci, fino ad arrivare al 23, in cui si conclude almeno questo nostro primo messaggio, e noi come, ecco, guidati da questa stella, secondo il nostro obiettivo che ci porterà, ecco, a manifestare quello che è il vero messaggio di San Francesco nella sua evangelizzazione, il ritorno, cioè alla spiritualità, e a messaggi attualmente molto, molto importanti come la solidarietà, avvicinarsi ai più deboli, e considerare in un colloquio interraziale, integrato, coloro che vivono nel mondo, che è l'espressione del creato. Perfetto. Germano, come chiedevo prima al professore Capano, quindi ci sarà la possibilità per i visitatori di avere notizie, insomma, su questa installazione e sul perché c'è questa mangiatoia, quindi alcuni cenni storici che poi rappresentano l'opera? Sì, noi stiamo preparando una brochure che accompagna l'installazione, sarà quello che spiegherà il motivo dell'assenza del bambino nella mangiatoia. Questo episodio, che noi, come ho detto prima, è un episodio storico che ripercorriamo e presentiamo ad Agropoli, l'abbiamo tratto da un'ultima pubblicazione di Arresto Ferrero sul libro Francesco e Sultano e di un altro libro del Monsignor Felice Accrocca, arcivesco di Benevento, che è stato presentato nella chiesa di San Francesco il 26 settembre scorso, sempre nell'abito delle celebrazioni degli 800 anni. E anche lì ci sta questo episodio che ci narra di quell'evento e noi abbiamo preso spunto da quell'evento e da questi libri per ripercorrere e portare avanti queste iniziative. Quindi, ripeto, una brochure accompagnerà e spiegherà opportunamente questa motivazione, questa assenza. Oltretutto anche nei manifesti ci saranno brevemente queste indicazioni per poter far comprendere agli altri. Mi sto proiettando nel futuro, visto che questa installazione davvero è molto affascinante. Avete pensato magari di creare altre scene della vita vissuta di San Francesco e magari posizionarle in più punti della città di Agropoli per creare proprio un percorso religioso e quindi attrarre l'attenzione anche di visitatori. Tu vuoi ripercorrere i nostri prossimi passi, ma non ti anticipiamo niente, perché voglio dire facciamo un passo dopo l'altro. Soprattutto i passi che noi facciamo, ci auguriamo che sempre l'amministrazione comunale e il sindaco che è qui presente ci accompagnino in questo percorso. Perché altrimenti senza l'appoggio forte del sindaco e dell'amministrazione difficilmente potremo andare avanti. Colgo l'occasione per ringraziare anche il Presidente del Parco Nazionale, Dottor Tommaso Pellegrino, che in questa occasione ci ha dato un piccolo contributo. E voglio salutare, perché è assente e perché non è potuto venire, Don Carlo Pisani, Presidente del Comitato delle Celebrazioni, che era impegnato altruve. E con lui abbiamo concordato l'inaugurazione dell'8 dicembre. Mimmo Iacomino, componente dell'Associazione Spirito Francescano, colui che è un po' più a contatto con la città, con coloro che vivono la vita agropolese. Hai un po' pubblicizzato questa iniziativa e quindi vogliamo capire cosa ne pensano gli agropolesi di quest'anteprima. Buonasera a tutti. Io questo progetto, questo magnifico progetto, devo dire che la città l'ha accolto in una maniera molto positiva. anzi, perché sicuramente ci potrà essere anche da quello che sento per la strada, ci potrebbe essere anche un ritorno religioso. Ed è quello che normalmente l'Associazione Spirito Francescano cerca. Ci potrebbe essere anche un turismo religioso che possa catturare l'attenzione di coloro che amano Francesco, amano Frate Francesco e seguono le iniziative dell'Associazione Spirito Francescano, che è improntata sulla storia di Francesco per farla conoscere un po' a tutti. Sindaco, siamo ai saluti. Quindi un'iniziativa che si presume avrà un grande successo, ce lo auguriamo. La luce di Francesco sarà sulla città di Agropoli e illuminerà il Natale 2019-2020. Sì, come dicevo proprio all'inizio, un'idea brillante che sarà al centro di tutto quello che noi stiamo organizzando per la città di Agropoli. Ci auguriamo naturalmente che il Natale possa arrivare e possa portare sicuramente serenità alle nostre famiglie e questo soprattutto di cui abbiamo tutti noi bisogno. Però cercheremo di renderlo anche attraente sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista degli eventi, delle attrazioni. Abbiamo organizzato un Natale fatto in maniera equilibrata senza spese eccessive, non sono i momenti questi di esagerare, però credo che verrà fuori un mese di dicembre simpatico da vivere insomma tutti insieme. Naturalmente vorremmo presentarvelo nella maniera, come dicevo anche prima, completa. Insomma, per intanto ci auguriamo che queste iniziative che presentiamo oggi spicchi il volo e possa essere poi, come si diceva anche precedentemente, essere seguita da altri eventi che vanno in questa direzione che costituiscono, come ho detto all'inizio, un percorso virtuoso che deve far conoscere sempre di più Agropoli da questo punto di vista. La presenza di Francesco ad Agropoli è ormai una realtà per tutto ciò che siamo riusciti a raccogliere, per le testimonianze raccolte, quindi non dobbiamo fare altro che farlo conoscere agli altri. Ecco, quindi questo è il nostro lavoro, questo ci impegnerà in futuro e io credo che insieme certamente potremo fare un percorso comune virtuoso. Di sicuro ci auguriamo che questo possa essere il volano, insomma, per far apprezzare sempre di più le iniziative culturali che l'Associazione Spirito Francescano interprende, insomma, già da diversi anni. Germano, dall'8 al 20 gennaio, dunque, questa installazione presso la Chiesa di San Francesco, ecco, diciamo anche ai nostri telespettatori, gli orari e ovviamente come si svilupperà la manifestazione di apertura? Ma gli orari non ce ne sono orari, perché essendo un'installazione in un posto, diciamo, quasi pubblico... Perché sarà un'inaugurazione? Sì, 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 adesso stavo dicendo. L'inaugurazione, come abbiamo detto prima, è prevista per l'8 di dicembre, il giorno dell'Immacolata. L'orario lo concorderemo con Don Carlo e quindi sarà comunicato a mezzo manifesto e a mezzo comunicati anche con il vostro apporto. Come dicevo prima, avremo almeno due iniziative musicali che accompagneranno questa struttura nel periodo natalizio. Poi sicuramente ci saranno altre cose che stiamo elaborando in questi giorni, ma mi sembra prematuro parlarne, perché finché non riusciamo a accentrare anche questi altri obiettivi non è opportuno parlarne. E noi invitiamo sin da adesso la nostra città, ma non solo, a poter visitare questa struttura che è un simbolo, ci auguriamo, sia un simbolo del Natale agropolese nel nome di Francesco. Bene, grazie a Germano Rizzo, grazie anche a tutti gli altri componenti dell'Associazione Spirito Francescano, grazie al Sindaco della città di Agropoli per la sua presenza in questo salotto televisivo, grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito, appuntamento ad una prossima edizione del Focus di Cilento Channel e magari sempre in compagnia dell'Associazione Spirito Francescano con prossime novità. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori che ci hanno seguito,